Ragazzi ci siamo, finalmente il nuovo Mix 3 di Xiaomi è realtà. Un telefono per certi aspetti innovativo, per altri un po' meno. Un po' meno perché ricorda vagamente il buon vecchio Nokia N95 che ha vissuto quegli anni, ormai tanto, tanto tempo fa, ha quella sensazione di un déjà vu, quel telefono che scorre, che slitta, la parte posteriore va verso l'alto, il frontale scende verso il basso, tramite due magneti ci sarà questo meccanismo di slide e verranno alla luce quelle due fotocamere anteriori, una da 24, l'altra più 2 megapixel. Serviranno anche per sbloccare lo smartphone con il volto con un sistema innovativo di sblocco facciale 3D, un sistema più accurato che tenderà sempre più a proteggere la vostra privacy e a rendervi sempre più unici nel riconoscimento. Bene, ma andiamo a parlare un po' di questo Mix 3 in tutto il suo splendore un display che occupa ben il 93.4% della superficie frontale quindi full screen display, pochissimi bordi, quasi completamente spariti i bordi sul frontale di questo smartphone, non c'è il notch quindi tanti di voi saranno contenti per questa novità e all'interno un processore Snapdragon con un casino di RAM. ci sono un sacco di versioni di questo Mix 3, innanzitutto la più basica, la più economica fra virgolette, la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione passando poi da quella con 8 GB di RAM e 128 GB, finiamo con la top, versione veramente unica nel suo genere che ha ben 10 GB di RAM con 256 GB di archiviazione. si tratterà di un prodotto con connettività dual sim che avrà una fotocamera sul posteriore a semaforo quindi ancora quella influenza di iPhone X che continua anche su questa linea di Xiaomi sempre a semaforo, 12 megapixel con una focale di 1.8 12 megapixel con zoom 2x quindi andremo anche a fare foto a distanza ravvicinata. come funziona lo slide? fondamentalmente abbiamo il movimento che il back va verso l'alto quindi il display scende verso il basso grazie a due magneti che regolano lo slittamento delle due parti meccaniche e quindi ci vuole anche una certificazione ecco Xiaomi garantisce ben 300.000 aperture di questi due magneti che fanno aprire lo smartphone che lo fanno scorrere quindi almeno 300.000 volte sicuramente lo aprirete poi non so che cosa potrebbe succedere occhio ragazzi alla polvere occhio a fare troppa forza nel movimento perché sono parti secondo me delicate col tempo potrebbero tendere a rovinarsi quindi attenzione sicuramente il display è una cosa bellissima da vedere su questo Mix 3 con un rapporto di 19.5 noni in full HD plus in qualità AMOLED e quindi tutto schermo con colori sparati bello bello da vedere manca il sensore di impronta sul frontale sensore di impronta che di nuovo torna sul dietro quindi ancora la vecchia concezione dell'oblò sulla parte posteriore ahimè è un vero peccato ma tant'è il telefono è bello 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 innovativo perché ce ne sono pochissimi di smartphone come questo a giro quindi chi lo possiederà avrà l'esclusiva di un prodotto che non si trova facilmente mi preoccupa un po' il peso si parla di circa 220 grammi quindi abbastanza pesante e mi preoccupa anche lo spessore perché se Mix 2 era 7.7 mm Mix 2S 8.1 questo Mix 3 è 8.5 è sempre più spesso ma vabbè sono due parti meccaniche che slittano quindi ci vuole un po' di sacrificio dal punto di vista dello spessore una batteria da 3850 mAh garantisce un'ottima durata perché lo schermo è bello ampio quindi ci vuole grande amperaggio è dotata di ricarica quick charge quindi ricarica rapida e anche wireless la bella cosa è che nella confezione di Mix 3 ragazzi troverete un casino di accessori a cominciare dalla coverina quindi una coverina già in dotazione e un caricatore wireless bello bianco bello sferico quindi ci appoggerete sopra il vostro telefono e questo si ricaricherà anche rapidamente una ricarica wireless da 10 Watt molto molto interessante il display ma anche il meccanismo slide sono le vere innovazioni di questo Mix 3 è proprio su questo slide che mi soffermo un altro pochino perché è possibile personalizzare l'apertura con 5 suoni diversi quindi possiamo andare ad aprirlo e sentire un suono personalizzato inoltre il meccanismo di slide oltre a rispondere alle telefonate vi permetterà di accedere a un menu di applicazioni personalizzato quindi una specie di shortcut delle applicazioni subito pronte e disponibili questo Mix 3 ragazzi potrebbe farvi felice come no perché ovviamente è pesante è ingombrante si parla di 6.4 pollici di diagonale quindi il web ovviamente si dividerà fra chi lo ama e chi lo odia e chi lo lascerà sullo scaffale prezzi disponibile già in preordine da inizio di novembre sarà distribuito in Cina quindi vi do un po' di prezzi per il meccato cinese da prendere con le molle perché ovviamente in Italia ci saranno dazi, rincari eccetera eccetera lo sappiamo ma tant'è in Cina la versione base 6.128 giga costerà all'incirca 415 euro la versione da 8.128.450 la top version quella più bella e figa di tutti con 10 giga di ram ben 630 euro ma non finisce qui notiziona nella prima parte del 2019 Xiaomi introdurrà anche la versione del Mi Mix 3 con supporto al 5G quindi una nuova versione con connettività 5G per viaggiare ad altissima velocità quando nel 2019 ci sarà questa possibilità di superare il 4G e andare ancora più veloce penso di avervi detto tutto se mi sono dimenticato di qualcosa ragazzi fatemelo sapere aspetterei a questo punto il vostro parere scrivete qua sotto al rettangolo del video io vi saluto vi do appuntamento al prossimo video e un like è sempre gradito ciao ciao